Ribaltone o sostanziale conferma di quanto già stabilito dalla GUP Gianluca Sarandrea nel processo di primo grado è la domanda che accompagna molti in questa vigilia di resa dei conti in corte d'appello all'Aquila dove domani nel pomeriggio il collegio preseduto dal giudice Aldo Manfredi dovrà decidere in merito al processo di secondo grado per la tragedia di Rigopiano del 18 gennaio del 2017. Nel febbraio di un anno fa la lettura del dispositivo nell'aula Medoro Pilotti Aielli al Tribunale di Pescara rabbia e forti tensioni da parte dei parenti delle 29 vittime per l'assoluzione di 25 dei 30 imputati con condanne lievi solo per il sindaco di Ferindola, Ilario Lacchetta, due anni e otto mesi, due dirigenti della provincia di Pescara Paolo Dincecco e Mauro Di Blasio, tre anni e quattro mesi e sei mesi per l'ex gestore dell'hotel Bruno Di Tommaso e per il geometra Giuseppe Gatto, pene decisamente inferiore rispetto a quanto chiesto dalla pubblica accusa al termine di un'indagine scrupolosa e capillare. Una risposta alla sacrosanta domanda di giustizia ritenuta evidentemente troppo debole rispetto a un complesso scenario di errori e omissioni manifesti in capacità di gestione dell'emergenza su vari fronti, dalle amministrazioni fino alle istituzioni più alte come quella della prefettura. Nella sua ormai divenuta storica requisitoria, il procuratore capo della Repubblica di Pescara, Giuseppe Bellelli, parlò di essenza totale di visione dell'amministratore responsabile, l'agente modello, quello che per il bene e la sicurezza dei cittadini, che è il dovere di tutelare, deve essere in grado anche di prevedere l'imponderabile. E non basta dire chi mai poteva aspettarsi che una valanga di simili proporzioni potesse abbattersi con quella violenza solutella? Tra l'inimmaginabilità di una simile disgrazia all'inevitabile scarica barile, anche in questi due mesi di udienze all'Aquila gli avvocati e degli imputati hanno cercato di aggrapparsi all'imprevedibilità dell'evento, pescando a piene mani dalle motivazioni della sentenza di primo grado. Può bastare dire che l'incapacità in questo Paese non è reato? Evidentemente no, secondo pubblica accusa e parenti delle vittime, che chiedono e continuano a chiedere risposte certe sul perché chi, preoccupato per le straordinarie navicate di quei giorni, non ha avuto la possibilità di lasciare l'albergo, sul perché le molteplici richieste di soccorso sono state ignorate e in alcuni casi addirittura insabbiate, come la telefonata del cameriere Gabriele D'Angelo, misteriosamente sparita dai brogliacci consegnati alla squadra mobile e per la quale dovrà rispondere gran parte del corpo dirigente della prefettura, a cominciare dell'ex prefetto Francesco Provolo, ma anche la mancata applicazione da parte della regione della carta di localizzazione pericolo valanghe, uno strumento che avrebbe potuto ad esempio consentire lo sgombero e l'immediata chiusura dell'hotel, ed ancora l'assenza di turbine funzionanti per liberare la strada ricoperta di neve. Insomma, una complessa concatenazione di avversità sulla quale il giudice Aldo Manfredi e il suo collegio dovranno fare sintesi con il gravoso compito di consegnare agli imputati, ai parenti dei 29 angeli rimasti sotto le macerie e all'opinione pubblica tutta, un reale senso di giustizia per una tragedia che ha lasciato, lascia e lascerà ancora troppi punti interrogativi.